Salve, sono Pietro Isacchi, ho 56 anni. Io sono Vera Sodero. Mi chiamo Fabio Isconti, ho 21 anni. Sono Stefano Garassino. Sono Lorella Fontana. Mi chiamo Cinzia, ho 38 anni. Sono Virginia, ho 22 anni e sono una mamma e un'imprenditrice. Voto la Lega Nord perché è l'unico partito che difende il lavoro e i giovani italiani. Ritengo che sia importante dare sostegno alla politica della Lega Nord per chiedere ordine per il nostro paese. Dobbiamo liberarci di questa palla al piede che è l'euro e riprendiamo in mano il nostro futuro. La Lega sono io. La Lega sono io. La Lega sono io. La Lega sono io. La Lega sono io perché credo nell'Europa nata per garantire pace e benessere. Io sono contro questa Europa. Non ho bisogno di un Parlamento europeo che stabilisca a quale distanza piantare i miei alberi. L'Unione Europea è una macchina che fabbrica povertà. La Lega sono io e sono contro questa Europa che non ha garantito il mio lavoro. Che ha distrutto 50 anni di conquiste economiche e sociali. La Lega sono io che difendo la mia economia. Mentre l'euro sta portando solo conflitti tra gli stati membri e miseria. Io sono per l'Europa dei popoli e non delle banche e dell'euro. Rimanere nell'euro è come stare in una casa con il tetto che sta per crollare. In tutti questi anni di euro ho visto svanire i risparmi di una vita intera. Perderemo anche le nostre pensioni e i frutti del nostro lavoro. Solo fuori dall'euro possiamo ricominciare a sperare. Sono stanco di sentirmi dire che l'euro sarà la soluzione di tutti i nostri mali. L'euro è il male, non la soluzione. La Lega sono io che voglio tornare a essere padrone del mio futuro. Basta euro. Basta euro. Basta euro. Basta euro. Basta a questo euro. Sono passati 12 anni dall'introduzione dell'euro e vi chiedo, stiamo meglio o peggio di 12 anni fa? La risposta la sappiamo. Ecco perché siamo contro questa Europa e questo euro. La Lega sono io perché cancellare il reato di immigrazione clandestina vuol dire spalancare le porte a milioni di disperati e appendere un cartello sulle nostre coste con sopra scritto Avanti c'è posto. Dico basta a questa immigrazione perché con 4 milioni di disoccupati non è razzismo, ma solo buonsenso. Ci sono dai 300 ai 600 mila immigrati pronti a sbarcare in Italia dalle coste africane. Allora che senso ha aver cancellato il reato di immigrazione clandestina? La Lega sono io che voglio più sicurezza e legalità nel mio quartiere. La Lega sono io perché con le nostre tasse bisogna aiutare prima di tutto i disoccupati e i lavoratori italiani, non altri. La legge Fornero ha ingiustamente allungato la vita lavorativa di milioni di donne già impegnate nel lavoro familiare. La Lega sono io che firmo per cancellare la legge Fornero, per ridare dignità al lavoro e ai lavoratori e speranza di un futuro migliore ai giovani come me. L'euro ha distrutto la nostra economia, la nostra sovranità e la nostra libertà. Il 25 maggio c'è un solo voto utile per dire basta a questa Europa. Il voto alla Lega Nord.